Febbre di lassa. L'altra volta ti sei seccato perché l'ho tenuto per me, allora parlo subito. È già stabilizzato. 40 cc di ribavirina e vedremo lo show di Ellen. Ho controllato. Non c'è lassa nel paese di Dybala. Il rush è sparito, il che vanifica la tua teoria della diossina. C'è una leggera febbre, oltre all'attacco cardiaco e all'emorragia polmonare. Ebola? Marburg? Il periodo di incubazione è troppo lungo. Sì. Può capitare che la gente viaggi e vada in posti dove c'è questa febbre, che ha avuto origine nella città nigeriana di Lassa. Lui è stato in tre paesi negli ultimi due anni. Qui, nello Zimbabwe e a Sharma el Sheikh in Egitto. Niente Lassa neanche lì. Ah. Altro fallo. Tripa non somiasi? Nessun disturbo del sonno, ma corrisponde meglio ai sintomi. E geograficamente, che c'è? In Egitto Dybala ha avuto un meeting dell'Unione Africana dove presumo abbia incontrato persone dell'Africa e quindi della Liberia, il cui Ministero degli Esteri è appena stato colpito da un'epidemia di tigna inguinale. No, aspetta. Non tigna inguinale. Era febbre di Lassa. Gli darò la ribavirina. Io l'ho detto subito. È bello riavere la vecchia squadra riunita, eh? Yeti.